Nel primo semestre del 2022 è proseguito il recupero dell'attività produttiva, ma il quadro si è andato via via deteriorando a causa della guerra e del caro prezzi. Banca d'Italia, per eseguire il suo aggiornamento congiunturale, ha effettuato un sondaggio tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre e ha rilevato una crescita del fatturato delle imprese, meno diffuso nelle piccole e medie. Male, il settore dell'automotive, a causa delle difficoltà di approvvigionamento e anche le vendite all'estero, hanno risentito dell'andamento negativo del settore dei mezzi di trasporto. Bene il turismo dall'estero. Le imprese nei primi mesi hanno visto un aumento del fatturato, ma in misura minore per le piccole e medie imprese. L'export nel complesso della regione è rimasto stabile, ma con delle differenziazioni per comparto. L'automotive ha registrato un calo notevole dell'export, sempre a causa delle catene di approvvigionamento. Mentre gli altri comparti sono andati molto bene. Per quello che riguarda il terziario, si distingue il turismo con un forte aumento delle presenze, in particolare il turismo dall'estero, che supera abbondantemente i livelli del 2019 pre-pandemia. Il settore delle costruzioni ha continuato a beneficiare degli incentivi per la riqualificazione. Le transazioni immobiliari sono cresciute. Nella prima parte dell'anno è proseguito il miglioramento del quadro occupazionale in regione. È aumentata la partecipazione al mercato del lavoro da parte delle donne. La crescita dei prestiti ai residenti in regione si è rafforzata per effetto dell'accelerazione dei finanziamenti alle famiglie e alle imprese medio-grandi. I tassi sui prestiti a medio e lungo termine sono lievemente aumentati. La progressiva rimozione delle misure di sostegno al credito introdotte con la pandemia non ha finora comportato ripercussioni sulla qualità degli affidamenti. La crescita dei depositi bancari si è ulteriormente attenuata rispetto ai livelli osservati durante la pandemia.